venditalia 2022 continua ci troviamo allo stand della createc con leonardo girardi buongiorno leonardo e benvenuto buongiorno fabio buongiorno a tutti presentiamo oggi createc che un'azienda molto evoluta sul sistema dell'erogazione dell'acqua e nei succhi con a base di concentrazione come puoi vedere abbiamo realizzato queste oggi presenti queste tre tipologie di macchine che erogano le due acque sia naturale che frizzante e dai due e quattro tipologie di succo a base sempre concentrata siamo riusciti a fare appunto dare il massimo nell'erogazione del succo senza lasciare residui senza lasciare i risultati e lasciare il cliente soddisfatto questo è stato il nostro punto di forza in base all'esperienza che abbiamo ottenuto in questi 15 anni sul diciamo proprio sul sul negli hotel perché l'ambiente le che arrivavano erano abbastanza pesanti allora col mio team ci siamo messi sotto abbiamo realizzato dal 2020 il nostro obiettivo se abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ecco le macchine che si trovano alle nostre spalle quante selezioni possono erogare bene allora la più piccola eroga cinque selezioni quindi tre tipologie di acqua partendo dall'acqua naturale ambiente fino arrivare anche al ai succhi due tipologie di succhi poi abbiamo la keila e la kibo che erogano due tipologie di acqua e quattro tipologie di succhi sono quelle che abbiamo visto negli ultimi secondi visualizzando proprio la la macchina 1 e la macchina 2 leonardo per chiunque desideri maggiori informazioni qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere ci trova a parte dal sito createxsrl.it e può inviarci una mail a info chiocciolina createxsrl.it naturalmente cappa iniziale cappa finale grazie allora io ne approfitto prelevo qui i due succhi che avevamo erogato poco prima dell'inizio dell'intervista facciamo anche cin cin e via eccolo qui per andare a festeggiare per festeggiare anche questo venditalia 2022 che si ripropone dopo quattro anni bellissima fiera auguri auguri a te a tutti a tutti salute grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti